Il mio nome è Alessandro Zippilli, Zippo Robotics as art name, e sono un inventore 19 anni Il mio nome è un inventore italiano che piace creare robot che possono aiutare le persone in loro tanti giorni Quando ero 13 ho iniziato a sviluppare un robot che si chiamava Electra La idea iniziale era creare solo un gioco, capabile di esplorare tutti gli ambienti urbani Purtroppo ho capito che il mio robot potrebbe essere usato per fare qualcosa di più importante che solo andare a riuscire E in questi anni l'Italia è stata fissata da due maggior avventure che ha distrutto le città e ha matato molte persone Quindi, ho pensato e ho deciso di tornare il mio figlio in un robot che potrebbe trovare le vittime dopo un luogo Per esempio Questa macchina è fatta di alluminio e usa un microcontroller di Arduino come il suo cervello Two lithium batteries che non lo vuole anche da Sheriff's per il mioobbi volta all due ore Oddio 6 Questo funziona? Basta scelta tre o più coordenze dal limite che l'area di sviluppare E poi il robot si calcolano e troce un poche di dico Immaginanzialmente la posizione di uno che gli altri Quindi avere una macchina come questo significa che se qualcuno è buriedo in una terra di un edificio di un edificio di un edificio, l'Electro detecterà il ruolo, e se si tratta, come in fronte di una stagione, puoi prendere il controllo e rimotere la stagione per A machine that can perform all these tasks can be very helpful while little money and human resource are available, and because it's a machine it will do all the hard work keeping the rescuer safe, it will never get tired, and obviously it will be more precise than a human, so we can even think that while humans face, a machine can solve the problems